Coraggio Maggie, puoi toccare le armi mortali Oh, è una rapina, adesso ti consegno tanti baci e abbracci Ok, ok, baci piano, ho le caramelle nella borsa Basta Coraggio Milaos, vuoi giocare nella NBA o no? Bart, il braccio mi è uscito dal suo coso Vuol dire che sta funzionando Bella fratelli!